Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video che l'avevamo preannunciato ovvero i video su League of Legends e con un nostro stile un po' particolare infatti nei video che vedremo oggi sono due partite ovvero due partite insieme ai miei amici tra i quali Asenka ovvero due team molto particolari prima di iniziare il video, prima che vi dico i due team vi ricordo di lasciare il pollice su, mi raccomando se vi piacciono questa categoria di video e intanto io posso, ho preso questo lo so è una minchiata però, l'ho privato, gira, 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 va beh si illumina anche al buio, c'è le pallettine qui che si illuminano al buio, queste sono carine va beh, comunque, i team in questione sono il team Black e il team Yordle nella descrizione trovate come sono formati questi due team infatti io sto giocherellando un po', cazzo, però sto giocherellando un po' con Gragas mi raccomando, questi due team, in questi due team abbiamo fatto due partite e diciamo che sono state abbastanza divertenti almeno a noi sono piaciute, anche io a editare vi sono divertito quindi niente, vi dico di lasciare il pollice su su se vi piacciono questi video e niente, direi di iniziare con la prima partita, ovvero quella del team Black stai registrando? ovvio bravo il titolo è quora, quindi quattro necchio cinese facciamo un nuovo film si è il nuovo titolo del nuovo video di Davids il nuovo titolo del nuovo video ma regà buongiorno ma che io oh, con calma però eh scusi bella signora tu dove ero con la voce? aia stai calma te eh stai insa cipolla perché non l'hai colpita? mi scusi dei cocco, cocco bello, cocco fresco, vendo cocco? no, non vendo più cocco, se ne va a parte del discorso sono vecchi dito ah, ma Shen ha fottuto il rosso di un culo, Shen ma è bello che Shen gli ha rubato anche il rosso eh, gli ha rubato il rosso oh, gliel'ha dato? Rengar, no eh, la cosina bravo mamma mia che cazzo ho fatto? cos'era quella cosa? che cazzo lascia stare ah, lascia stare lascia stare cosa ho fatto racconta ci sei? racconta, racconta eh, guarda quanta vita ho no, 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 lascia stare ho trovato un po' di mana ho visto che c'era Ari tipo mezza morta sono andato lì e autoattacco in night flash via mamma mia mamma mia che place mamma mia beh, vabbè ci sono andate con sete per dire che in così mi facciare veramente il culo eh, vabbè, uffi no, come? perché sono un fortico che porto perché sono un coglione io morici puttana sei morta è la tromba del film no, no, bravi, grandi non ci sono 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 ha flashato no mamma mia mamma mia mamma mia dovevo io che ce ne avevo no, ok, niente l'hanno recallato l'hanno recallato quindi vuoi andare anche tu? eh, sì vaffanculo che coglione che sono che cogliale che sono mi servivano questi inghiotti ahia, quest'ora sono preso su di D non so no, è tutto simile bravo bravo ahia vietami, vieni, vieni adesso lo fai? no, c'è l'ultimo ha usato scelto eh, beh, cazzo eh, vabbè, eh, devo farci un cazzo vengono attaccaee, luciani è bello perchè è riuscito merda ma dai guardalo 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 che stronzo e l'ho visto, sì, e l'ho visto e l'ho visto la seconda volta che sfiga hai visto una bicicletta e stai venendo a rubarla si, esatto ecco, come Ayukka oh, scendete? eh e stiamo arrivando, mimi Ayukka, ragazze, abbiamo assistito a una delle scene cioè, di cui cinze più belle che esistano c'era un negozio di biciclette e fuori c'era un nego appoggiato così la faccia da Gex e qui, qui, qui mi stava a rubare nooo nooo avevi la 1 suona vai dai dai, davids, cazzo ma tu ho nato, mi ha tu nato dai, davids dimmi che servia qualcosa ti flammo per l'arresto della vita eh, che mi ha dato gli attanti, guardate eh eh si vado un shane, bel cosmo, buonanotte suona, va bene ok dai, luciani c'era, c'è anche Caitlyn fa bravo, davids vedi che è così si, per qualcosa ma faccio vale quello è bello il problema mi squaglia eh, un attimo, tre secondi merda concentrazione ringrazio i minion prendila ah, c'ha preferito farsi il caretto potessi che farvi voi porca puttana picchia ciaone eh, no bene beh, fa troppo male ma aria è ancora viva in tutto ciò, davvero? no, no, l'ho ammazzata io, l'ho ammazzata io ma è coglione, maledizione, t'ho ammazzato no, ma non c'è più meglio andato ok prendiamoci sta cazzo di torre attenzione attenzione che incalcio io? vado a comprarmi la redemption no, questo non lo passo stami vicino, cazzo, paura io ho visto e nel replay farò in maniera e Giorgio che mi taglia le cose? no, ascoltà, io farò in modo che nel replay quella scena si veda benissimo devo rubare altri due mossi dalle... no, se no, sennò ti fottevo il Giorgio beh, come partita non è stata malaccio, eh devo essere sincero qualche giocata buona qualche giocata brutta qualche urlo di troppo qualche capriola fatta bene di VB, chi lo sa e... comunque la prossima partita e qui... eh, mi si... 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 no, mi si... 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 oddio, mi si... si... si monta la luce qua spacco tutto spacco tutto la prossima partita è quella di Yordle anche questa mi è piaciuto moltissimo io sono un mid con i Merdinger e abbiamo un mid tutti di Yordle la figata è stata che quando ero nella schermata di caricamento è successo qualcosa di particolare non vi dico altro e vi lascio al secondo e ultimo video ci sono detto Star Guardian contro... contro... oddio... ragazzi non sono mai andata no... raga, guardate il loro team a Mumu Kennen e a Mumu dai... dai... no aspetta se ci sono altri tre Yordle no vabbè io avremmo... c'è da spararsi come si chiama? come si chiama Reza? Oh mio Dio Oh mio Dio Non ci credo No vabbè dai Ragazzi aiutatevi Come si chiamano le skin Come si chiamano le skin quelle che sono appena uscite per Oriana Enny Enny no E' una Enny Quanto siamo piccoli Minchia se non c'era Enny facevamo proprio Oh questa registra la Davids Stava già registrando Sì sì ovvio Perché fa ridere anche tutta la intro In cui ci stupivamo E con Papis che parlava soprattutto Cosa 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 Non lo stavo parlando Stavo ascoltando un audio Comunque mi serve un pull Ma si è sentito che ascoltavo l'audio? Oh lol perdonate Oh shit Non c'era niente E' di che perché fa Dove dove Dira una cosa porno Oddio sono tutti i myth Come sono tutti myth 3 myth Sono c'è in 3 Vabbè ragazzi Vabbè ma non c'è in 5 myth C'è la razza E le torrette Ho capito Torretta 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 Timo contro Timo Torretta Torretta Cos'è un coso Non scioglilingua 3 timo contro 3 timo No木 3 timo contro Timo contro 3 timo 3 30 no Cratta Ancora better Che di go Cratta Ancora Ancora Dislessica Non posso farlo Capito 3 timo top mamma 4 timo top 3 timo Bravo EDIO Timo Temo Teocchio Torre comunque se lo ripeti tre volte, confermo, viene bel tebu bel tebu eh timo non sta scendendo da te eh ah ma tu stai andando a timo lol ma che DAI bravissimo bravissimo hai visto ma se mi avvertimo eh perchè non me lo aspettavo che si spostavano se mi avessi avvertito non avrei voluto flashare però GG eh era un gag della madonna ahia che al massimo lo fermo o meglio da un'altra cosa forse mi salvo forse mi salvo forse mi salvo non ci posso vedere che non mi sono eh ma dimmelo che arrivi io li sto raggio qui mi hai rubato eh ho avuto qua solo per il carrello ho avuto qua solo per il carrello tassa ma è bello perchè lì prende la passa anche se non fa un cazzo fanno tutti no prendi il gank lasci la kill e tassi la lane parla a lui che ruba tutte le kill infatti io rubo le kill e tasso pure però se non faccio la kill non tasso guardate il vantaggio con gli assist ti deve bastare tima da sotto allora push tipo tutto si però non lo vedo già più si probabilmente sta già tornando su però io vengo dalla parte bottom l'1 era qua non l'ho visto si lasci mi annuda palla ta 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 cosa fai ti metti l'idea come c'è questo dai ok tienili che io faccio il bel drake dovresti guardare qua un attimo non ritengo più però non ha vita che ne quindi almeno non viene è il più piccolo del suo schema posso vicinarmi troppo non possiamo vicinarsi troppo mettile qualche cosa ma domanda mia che noiosa ho il tempo di ricarica ho il tempo di ricarica si ma quel tu hai di cooldown 30% che cazzo di cuo'era e dopo lo scudo non mi serve niente cioè eh reattività è un attimo la gamba oddio ho fatto mezza vita che voglia di stillartelo ha rotto il capo raga aiuto no tu cosa siamo in crisi 2 eh chi mi fa una grande si grazie pa ah beh e non c'è già l'azzo dopo dopo provare quindi dopo te li do come al solito ottima raga va bene David c'è certificato per un bel superiore che c'è già l'azzo come ti dici come ti dici mi sembra io che si sa che ti dica quando sono alla fine andiamo su con la hannis scoppiamogli il culo per me che non uso mai Tristana Tristana la botana ma dai oh merda vaffanculo bravissimo per caso cosi carrettino verso due torrette che la torre aveva uno sfuggito di vita vale noi pushiamo raga aia porca aia se a me non è morto no per morire non morire ai no mica ma non morire ma non sceglie la vita per il tuo scudo va bene no quello si è comunque Enne grazie di suo fa male eh ho cercato i dati prima ma non potevo far nulla cioè ho poca vita no 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 hanno surrendato vabbè l'ho fatti surrendare si lo so aia ragazzi queste due partite sono state veramente e per sezionale e per sezionale diteci se vi piacciono queste cose queste noi ne facciamo ancora probabilmente perché anche noi ci divertiamo non so team support team non so tutti i cosi che c'entrano con la mitologia tutti animali cioè cose così a noi ci piace fare cose così quindi probabilmente lo faremo quindi niente vi ricordo ancora perché io vi rompo il cazzo con sto pollice su mi raccomando diteci anche voi dei team possibili inimmaginabili fantasia andate molto a fantasia noi proviamo tutte noi ci speriamo quello che ci dite e niente io direi che per questa volta per uno dei primi video forse terzo di League of Legends possiamo dire che è finita a tutti